Buonanotte, buonanotte, video della notte per il commento doveroso di Parma-Juve. Questa Juve che doveva passeggiare a Parma, Parma non ha passeggiato. Quindi è un denominatore comune il fatto che questo campionato è difficile anche per una corazzata come la Juve. Non ho visto la partita, ho visto dei highlights, ho letto dei secondi, eccetera. Quel che emerge è che il Dio sceso in terra non ha segnato nemmeno questa volta. Mister 31 milioni di stipendio annui non ha segnato ancora una volta. Allora quello che io sostengo è che la Juve non ha bisogno di nostro signore Ronaldo. Perché la Juve è fortissima o uguale. L'hanno presa questo buffone per vincere la Champions. Per me resta un giocatore montato, esaltato, borioso, che non è necessario alla Juve. E prima o poi si ripercuterà contro lo stesso spogliatoio. E questo, vedete, è una mia battaglia di principio che io non faccio contro la Juve. Perché io da interista, obiettivo, dico che la Juve è la squadra più forte di tutti in assoluto. In Italia, soprattutto, non ce n'è per nessuno. Nemmeno per il Napoli. Però Ronaldo mi sta sullo stomaco, diciamo così. Perché è un esagitato, un fanatico, un altezzoso, che non porta il contributo che dovrebbe portare. un invasato, un vanitoso, un spocchioso, un insolente. Anche per quanto riguarda il premio a Monte Carlo, che doveva andare a Monte Carlo, che non è andato, quando ci sono stati i sorteggi Champions, perché per protesta, perché lui, benché invitato, non è andato perché il miglior giocatore è stato dato a Modric il premio. E allora no, perché egli mica poteva applaudire il collega Modric. Doveva essere lui il migliore di tutti. E no. No, caro mio, gli anni passano per tutti. Poi, se l'avesse fatto qualcun altro, questo gesto antisportivo, di non andare, benché invitato, in un consesso internazionale, questo qualcun altro, chissà, si sarebbe beccato una multa, o una squalifica o qualcosa. Invece nessuno parla, perché il nostro signore Ronaldo, va bene, lasciamo passare ancora alcune giornate, vedrete che Ronaldo sarà un fenomeno molto negativo. Comunque, a quelli che ho visti, il Parma non ha demeritato. Questa sera ha preso una traversa, ho anche delle occasioni. Certamente, se vogliamo dire la vittoria ai punti, ci stava per la Juve, perché la Juve ha tutti i campioni, il Parma non si è scansato, non ha demeritato, con un po' di fortuna, avrebbe anche potuto pareggiare. Quindi, onore al Parma, e domani vedremo, il resto della giornata, vedremo se il Napoli riuscirà, soprattutto, a rispondere alla Juve, e se la Spalla, a questo punto, riuscirà a rispondere anche a lei, visto che, vincendo, anche la Spalla andrebbe a nove. Va bene, come dire, le favole, finché durano, sono come i sogni, poi quando uno si sveglia, beh, peccato. Grazie, buonanotte a tutti, un abbraccio, grazie. Grazie.